Iurigami o Ibo Milano, una bella serata dove poter ascoltare la tua musica. Benvenuto al microfono di Your Music Italia, ciao. Ciao, ciao, grazie mille. Diciamo che il nostro pubblico già un po' ti conosce perché abbiamo avuto modo di parlare di te, abbiamo anche fatto un anteprima video, ma ci racconti un po' del tuo percorso musicale. Tu sei giovanissimo, ma diciamo che alle spalle hai già qualche singolo e anche un EP. Sì, allora diciamo che questa è la parte finale di un lungo percorso che mi ha visto imbracciare una chitarra a dieci anni e poi è continuato sempre in crescendo per fortuna e diciamo che mi ha portato anche ai testi, quindi al mondo dei cantautori e quindi solo due anni fa ho deciso di scrivere le prime canzoni perché sentivo di avere qualcosa da dire o comunque un mio punto di vista ed eccoci qua. Diciamo che nella tua musica comunque convivono diverse forme artistiche e soprattutto diverse anche forme cantautorali perché comunque diciamo che la base potrebbe essere considerata proprio il cantautorato classico, però riesci a spingerti anche dal punto di vista testuale verso diverse forme, verso diverse direzioni. Ci racconti quelli che sono stati i tuoi primi modelli di riferimento? Allora, in realtà a livello dei testi non ho un vero e proprio modello di riferimento ma ho avuto degli input esterni che sicuramente sono stati quelli del liceo che quindi mi hanno aperto a diversi pensieri filosofici o comunque a modi di scrivere che poi mi hanno portato a scrivere la mia musica. Non credo di avere dei riferimenti di cantautori del passato italiani. Comunque mi dicono che ogni tanto ci... finisco per fare cose simili ecco, però non ho veri e propri modelli sotto quel punto di vista. Dal punto di vista del sound invece si può avvertire la tua passione per quello che è il pop rock inglese? Beh sì, sì, in parte sì, sicuramente. Io sono cresciuto con questo genere, soprattutto all'inizio del 2000, guardavo un sacco MTV e ho ascoltato tantissime ore di musica e chiaramente mi hanno un pochino influenzato. Sì, in effetti si può avvertire qualcosa di Brian Adams piuttosto che Bon Jovi a livello proprio di modelli in questo caso? Sì, sì, li ho ascoltati molto in effetti anche quando ero più piccolo, quindi senz'altro è arrivato qualcosa. Beh, diciamo che dai testi si può avvertire quella che è anche la tua freschezza, la freschezza dei vent'anni. Grazie. Ci racconti come nasce una canzone, qual è il, diciamo, come possiamo dire, la composizione, come nasce una tua canzone? Allora, le canzoni secondo me nascono in modo casuale e poi io credo che il nostro cervello sia potentissimo e quindi in grado di fare associazioni in continuazione, anche quando meno ce lo aspettiamo e man mano crescono, crescono, magari non ce ne rendiamo conto, però ti ritrovi magari davanti a una nota del telefono con un'idea dall'inizio alla fine, magari ci hai già pensato per tanto tempo ma non lo sapevi. Qual è il luogo più strano dove hai scritto una canzone? Dove hai avuto l'idea, l'input per scrivere una canzone? Ne ho scritte due in aereo, tra l'altro, ed era un viaggio di un'ora, quindi avevo già le idee chiare. Sì, è il luogo più strano, il bagno è troppo scontato, lo dicono tutti. In effetti sì, in effetti sì. Ma senti, ma come ti senti da ragazzo di provincia anche ad affrontare un palco come quello milanese? Sento il peso, sento proprio il peso perché fino a poco tempo fa ero davvero in cameretta e non avevo idea di come si usasse la voce, quindi sì, è molto emozionante e molto anche pesante sotto un certo punto di vista, però è un percorso e bisogna affrontarlo senz'altro. Diciamo che la tua famiglia comunque ti ha sostenuto parecchio, nel senso che è anche un tuo familiare che è anche produttore. Esatto, è mio padre che salutiamo, è Alessandro, e sì, mi ha sempre seguito e indirettamente mi ha spinto in questo mondo, anche se lui mi dice che non voleva, voleva che facessi altro, chiaramente, però poi è successo quello che è successo e andiamo avanti così. Ma diciamo un pro e un contro di avere un padre produttore. Esatto, esatto. Quale può essere un pro e quale può essere un contro? Ah ok, pensavo fosse proprio il fatto di avere un padre produttore. Ma il pro è che senz'altro ti sa aiutare perché ti sta mettendo nel mondo che ha vissuto lui comunque, quindi ha esperienze, quindi ha già fatto il percorso che devo fare io. Un contro non lo so, un contro che magari indirettamente mi ha spinto in questo mondo e non mi ha fatto fare altro, però in realtà io voglio fare questo, quindi... Ma senti, ci sta, un'altra delle particolarità del sound sono proprio legate agli arrangiamenti. Come sono nati, chi li ha curati? Li ho curati io e... Fact ottimo. Non è che voglio tirare. No, ma è giusto, ragazzi, il nostro compito è quello di valorizzare gli artisti. Ma nascono davvero... la mia è una grossa ricerca di suoni, quindi non ho un genere in particolare, vado veramente a caso, trovo un suono che mi piace e cerco di costruire un mondo su quello. Magari chi mi ascolta è un po', come dire, spiazzato perché non riesce a inquadrarmi. Dice, ma che genere fai? Scusa, qua fai una roba, qua ne fai un'altra. Però dal mio punto di vista ogni canzone ha il suo mondo e quindi è giusto che abbia anche dei suoni diversi. Ma dal punto di vista compositivo, quando devi iniziare proprio sulla musica, inizi con la chitarra? Chitarra, pianoforte o anche solo dei suoni o dei loop, veramente in modo casuale, in modo completamente casuale. Secondo te oggi dove sta andando il pop? Ma il pop si sta confezionando sicuramente sempre più e si cerca di dire tutto in pochissime parole, quindi si cerca anche di arrivare al ritornello in pochi secondi, anche sotto questo punto di vista, ma è frutto di quello che è la società. Quindi è una società che corre, è una società che vuole tutto subito, è una società che prende il telefono e ha subito tutte le risposte. Ma io credo che comunque nel tuo EP non ci siano regole. Io ho respirato proprio quella libertà dei vent'anni, sei d'accordo? Sì, ti ringrazio, allora ce l'ho fatta, era proprio quello che volevo. Sempre, non uscendo mai troppo dal pop, io voglio mantenere l'attenzione di chi mi ascolta, però voglio anche sperimentare allo stesso tempo e quindi anche azzardare delle dissonanze ogni tanto o qualche parola che nessuno capisce, però non mi interessa. Senti, parliamo anche di una persona che è stata molto importante nel tuo percorso, che è l'angelo custode che mi sta alle spalle, che è Simone Tomasini. Mi sta alle spalle di tutti. Prega per noi. È stato sicuramente molto importante il suo incontro, tra l'altro è venuto pochissimo tempo fa e mi ha dato quella spinta fondamentale poi per migliorare su quegli aspetti che ancora avevo da migliorare, che comunque devo migliorare tantissimo anche adesso, che può essere magari le relazioni con gli altri o il palco. Ma qual è il complimento più bello che Simone ti ha fatto e la critica invece che un po' inizialmente magari ti ha ferito? Ma complimenti tantissimi, adesso non ne ho uno in particolare. Critica, ma è difficile che io mi ferisca per una critica, diciamo che è giusto, ferisca, sì, scusate. Va bene. Va benissimo. Le ascolto sempre tutte e comunque sia dal punto di vista delle buone parole ma anche delle critiche non ho nulla da dire, sono state costruttive in tutti i casi. Senti, io non posso che ringraziarti, l'ultima domanda è te proiettato a fra un anno, diciamo nel novembre del 2019 come ti vedi? Io spero ancora qua, magari, a noi boh, e spero di poter migliorare anche sotto il punto di vista dei live, di portare avanti anche un concetto di band, di suono, magari trovare il mio suono, magari inquadrarmi un pochino di più, crescere comunque, crescere e portare avanti questo progetto e suonare tanto, tanto, tanto. E immagino che tu comunque non stiamo mai smettendo di scrivere. No, 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 assolutamente, questo mai. Yuri, grazie mille e buona musica. Grazie a te, ciao. Grazie a te, ciao.